Un giovane spacciatore locale il 30 aprile scorso ha acquistato dal suo fornitore un ovulo contenente 30 grammi di cocaina pagandolo 1700 euro ma in realtà al suo interno c'era solo comunissima pasta per alimentazione. La mara scoperta del raggiro è avvenuta tra l'altro in caserma davanti ai carabinieri di Colli al Metauro dove lo spacciatore è portato dai militari per un controllo approfondito dopo che il ventenne era stato fermato. L'atteggiamento nervoso del giovane ha subito insospettito carabinieri e polizia locale che stavano effettuando posti di controllo su strada. Una volta in caserma il giovane vistosi alle strette ha consegnato di sua sponte l'involucro ai militari ammettendo l'acquisto dello stupefacente ai fini di spaccio avvenuto poco prima ma a quel punto il comandante della stazione Antonello Pannaccio e dei suoi uomini hanno aperto l'involucro molto ben confezionato per effettuare il narcotrest per individuare la natura della sostanza ma una volta aperto il pacchetto ecco il pacco non c'era cocaina purissima come il pusher si aspettava ma della comunissima pasta per alimenti ottima per una carbonara ma meno per lo sballo. Sospiro di sollievo e qualche risata a denti stretti ma mica tanto poi perché i carabinieri vista la missione del giovane hanno esteso alla sua abitazione i controlli e lì la droga l'hanno trovata ben 18 grammi di cocaina bilancino di precisione materiale da taglio e per il confezionamento di dosi e di conseguenza l'incauto spacciatore arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Questa mattina il ventenne di nazionalità italiana residente a Lucrezia e regolarmente occupato è comparso davanti al gruppo di Pesaro che ne ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza per il patteggiamento.